Musica Ciao ciao ragazzi, ben ritornati in un nuovo video unboxing con la vostra Vale Mangaka Finalmente anche questo è passato un sacco di tempo dagli unboxing e probabilmente le ho sparati un sacco durante il periodo estivo Oggi sono tornati con un nuovo unboxing e ne ho un altro qua dietro Ma voglio farvi un video a parte perché appartiene tutta altra categoria e quindi penso che sia molto molto contento E tra l'altro un grande ritorno e non vedo l'ora di farvelo vedere perché sono tante tante cose Oggi abbiamo fatto quest'altro unboxing come vedete dalla pacco da Amazon e andiamo subito ad aprire Andiamo ad aprire questo qua, sì questo qua l'ho dovuto aprire un po' per necessità perché aveva detto che forse c'era un po' di problemi e quante altre cose E ho detto no, non vuoi dire che ci sono già dei casini con la confezione che sia tutta rotta o rovinata E invece quanto pare no Abbiamo qui la nuova figure di Shine della serie, sempre della serie di One Piece, Glitter e Grammors Questa si chiama la serie di Shiny Venus Che talmente sono quelle pose che si mettono diciamo in orizzontale e non in verticale Ne hanno fatte due per il momento, poi sono tre in uscita Sono tre e questa è quella di Boa Hancock che è molto molto carina È nuova di trinca, guardate Guardate, fate questa in questo modo È bellissima, è nuova di trinca, è molto molto figa e molto particolare Mi mancavano un po' queste figure da mettere in orizzontale perché erano molto carine e molto eleganti Come detto ne hanno fatte tre Cioè dovrebbe essere in uscita quella di Nami Poi in uscita in preordine dovrebbero esserci quelle di Nico Robin e di Bibi Io la chiamo Bibi ma alcuni la chiamano Bibi in Efertari Io la chiamo Bibi perché sono avvenzionata ancora alla serie Questa è molto molto bella, molto fighissima Sto aspettando che devono arrivare anche quelle tipo serie Bride, quelle da vestito e da sposa E altre serie della Code B Però sono molto molto carine E tra l'altro questa qua della Glitter Gremor è molto, sono molto fighissima Fate questa serie della Shiny Venus E niente, quindi questo è uno E andiamo avanti con l'ultimo unboxing Questo è anche questo solo Sto sapendo già che cosa sia di pacchi E quindi ho già messo in idea perché ho fatto questo ordine Tanto tanto curioso di farvelo vedere a voi E sono curiosissima anche a me perché non vedevo l'ora L'ho vista Vedendolo dall'immagine se mi rende poco Per un conto vederlo veramente dal vivo Oh, abbiamo qua un'altra scatolina Abbiamo qua un'altra scatolina molto molto figa Togliamo questa E apriamo questa piccolina qua E apriamo, togliamo questa Oh, questa tendeva tantissimo Continuiamo con la serie delle B-Knight Figure Ma questa volta dedicata alla serie di Steven Universe La serie Steven Universe me ne sono diciamo un pochino affezza Un po' innamorata durante il periodo tra luglio e agosto Me ne sono innamorata Diciamo che me ne sono innamorata della serie Mi sono vista quasi tutti gli episodi Compresa la quinta stagione Po' anche ancora in inglese Non ancora in italiano Me ne sono innamorata Mi sono detta anche un po' più chino affezionata Ai vari personaggi della serie E qui mi sono decisa di seguirla Di fare la sfatica anche di questa serie Perché come è iniziata come per Wakfu All'inizio fa un pochino per infantile E un po' a mia mano si fa la serie un po' più interessante Ed ecco qua la nostra collezione Qua ci sono tutte le 12 confezioni Con i vari personaggi Non è detto che si troviamo tutti quanti i personaggini Adesso vi faccio vedere anche le scatoline per intero Queste sono le scatolette Guardate un po' Vedete qua quanto sono carinissime E qui dietro troviamo i nostri personaggi Quindi i possibili personaggi che troviamo Poi ci sono quelli iper rari da trovare Ma che saranno difficilissimi Poi quelli normal della serie Ci sono più o meno quasi tutti che conosciamo Però sono tanto tanto fighe E molto molto carini Fatemi sapere anche voi se volete che faccia Lo scatolamento delle varie confezioni Di questa serie di Steven Universe E comprese anche quelle di Rick and Morty Dei My Little Pony E della serie di Sister Location Del Five Ventures Freddy's Che avevo fatto non mi ricordo neanche quanto tempo Con questo concludiamo questo unboxing Come vedete ci sono tanto questi due articoli Ma non vi preoccupate che poi Ne farò un altro video a parte Ma comunque mi spiegherò meglio Sono contenta che siano arrivate altre cose Dovrebbero, non so quando Poi arriveranno altre confezioni Queste cose così Ma comunque se non lo dissi fare Comunque farò vedere foto Queste cose così Io spero che questo unboxing vi sia piaciuto Anche se un po' frettoloso Un po' usciato Un po' così Spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti qua sotto Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Di Otako Inside Dove potete fare i vostri confronti Tra le serie, vendere delle cose E quant'altro Tra le altre cose Sempre organizzato dal mitico gym O logicamente gym Come lo chiamate E vi ricordo che se avete delle domande Di questo genere Di questo tipo Vi ricordo di lasciare qua sotto L'hashtag Valeva una domanda per te E raccoglierò tutte le vostre domande Nel prossimo Vale risponde Io chiudo questo unboxing ragazzi E come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Anche i vari social Facebook Instagram Telegram Gruppo dei Spamati di Telegram Che vi lascio il link qua sotto In descrizione Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Noi ci rivediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao